Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente un grandissimo colpo da parte di Corvino e Trinchiera. Di Mariano e dei nostri, finalmente ufficiale da 15 minuti. Stavo aspettando l'ufficialità per poter fare il video, per non magari fare il video e poi rimanere così. Alla fine non lo pigliamo più, ha detto no, aspettiamo prima. Prima lo piggano e poi lo dico. Di Mariano ha firmato un triennale, l'ha preso praticamente a titolo definitivo. Sono molto contento, finalmente un grande acquisto che giocherà in attacco esterno. L'anno scorso ci ha fatto vedere anche contro di noi che il pasto è fatto. Grandissimo acquisto. Lui giocava nelle giovanili nostre e è andato via perché comunque non credeva in lui. È andato al Venezia, ha fatto diverse stagioni strepitosi, specialmente l'anno scorso con la promozione in Serie A. Quindi viene con noi, sono molto contento. Poi è arrivato anche Barrega, che viene dal Monaco, anche se ha giocato poco negli ultimi anni. Comunque era una promessa, sapevo che era un under 21, ha giocato con l'under 21 ovviamente italiana e era una giovane promessa. Mi sa che è stato pagato 10 milioni forse dal Monaco nel 2018. Insomma, quando era giovane aveva lì a parecchi sordi. Poi negli ultimi anni si è un po' perso, ha giocato anche in Serie A col Torino, se non sbaglio, un'altra squadra non mi viene in mente. Ma ha fatto pochissime presenze e comunque il Monaco l'anno scorso pure ha fatto forse pochissime presenze pure. Poco o nulla, quindi ha giocato. Però comunque è un giocatore di 26 anni, quindi è un giocatore comunque valido per quello che è. Quindi sono molto contento anche per lui, giocherà a terzo e sinistro perché Brian Vera e Gallo hanno fallito. Quindi mi dispiace per Gallo, non lo so. Il Brescia comunque ha sondato il terreno subito. Vedi? Come Pighiano 1, Brescia o una qualsiasi altra squadra sonda il terreno per poter prendere Gallo. E lei ce lo darà solo a titolo definitivo. Secondo me sbagliano a darlo. Fatemi sapere cosa ne pensate sia degli acquisti che Gallo. Gallo deve rimanere anche come alternativa, è abbastanza valida secondo me. Brian Vera o deve giocare terzino-destro che può giocare anche sull'altra fascia come alternativa o rimane come alternativa. Ah beh che comunque lui può giocare anche come esterno d'attacco, quindi comunque o centrocampista, comunque secondo me conviene che anche lui che lo tiene rimarrà qui come alternativa. Saluto Vigorito, ti vogliamo bene tutti noi tifosi perché tu sei stato l'artevice della promozione dalla Serie B alla Serie A di due anni fa con Liverani. Quindi le ultime due stagioni, sia la Serie A che l'anno scorso della Serie B, purtroppo non è rientrato nei piani del Lecce. Mi dispiace tantissimo perché comunque lui ha fatto vedere che ha attaccamento alla maglia, ha giocato bene e ha fatto una grandissima stagione che ci portò in Serie A. Ti salutiamo, Valco Senza mi sa, titolo temporaneo, quindi comunque potrebbe giocare titolare, almeno acquistare valore comunque anche per un'eventuale plusvalenza del Lecce. Non credo che rientrerà più nei piani del Lecce, però comunque quest'anno giocherà in maniera, diciamo, in prestito e poi verrà, diciamo, poi chi lo sa, non lo so, se farà una grande stagione magari il Lecce potrà fare una plusvalenza, come ho già detto prima. Quindi sono molto contento per Di Mariano, c'è un altro giocatore anche dell'Empoli, Viti si chiama, se non sbaglio, diciamo un difensore. Non lo so, stanno sondando il terreno, non lo so come, mi informerò, non lo conoscevo sinceramente. Questo è il giocatore, fatemi sapere voi, forse è meglio, però comunque è solamente una trattativa, non c'è nulla di, diciamo, di ufficiale. Importante è che ha picchiato Di Mariano, che è muto, forte, pur ricordate con noi, no? Che col fice già è, tipo la del Piero, boom, all'incrocio dei pali. E comunque anche Barrega ha un ottimo acquisto. Ci vediamo al prossimo video, abbiamo ovviamente domenica farò la live reaction di Lecce e Como, con Speranza, con Bencimo, mannaggia chi bassonati. Noi tutti i tifosi abbiamo ampiamente fiducia, su YouTube la farò, quindi ragazzi seguitemi, su YouTube farò la live reaction. E Blinis è fortunato, quindi domenica non ci sarà, quindi giocherà o Bjorkengren, codice fiscale, o Yulman. Sinceramente preferisco Yulman, anche se non è quel ruolo suo. Secondo me, Como Taxidis, non hanno bigliato ancora. Speriamo, io spero che trovi in Lecce un altro sostituto di Taxidis che dovrebbe essere Blinis, ma secondo me non va in Alira. La giuditta già non mi va di ripetere. Mo se è fortunato e mi dispiace, speriamo che recupera quanto prima. Sicuramente a fine mercato prenderà un giocatore lì, cardine del gioco, un giocatore proprio preciso che serve. Come devo dire, è uno dei giocatori più importanti, diciamo, di tutti gli undici, quindi che fa da, diciamo, contrasto per la fase offensiva dell'avversario, in più imposta pure, quindi sta al centro, diciamo, avanti la difesa, per aiutare, in più può anche, è quello che comunque gira tanti palloni, che fa salire la squadra, che va, comunque, devi ricordare, Taxidis stroni, lancia e capacità. Quindi ci manca uno come a lui. Speriamo che lo pighiano, non lo so, perché Yulman, secondo me, non è adatto, però, più come mezzala sinistra interno di centrocampo, sì. Diciamo, come spezzare il gioco va bene, riesce pure a fare qualche passaggio, ma non è quello che ti fa differenza, specialmente con i passaggi. Per il resto, comunque, è fortissimo Yulman. Però, secondo me, non è quello lì il suo ruolo. È più, diciamo, da mezzala interno da centrocampo, diciamo, né tre, no, quello che sta un po' più avanti, diciamo, non quello che deve difendere, che magari può anche difendere, come ho detto prima, ma tocca pure imposta. Imposta, sì, ma fino ad un certo punto. Secondo me no. Magari in futuro diventerà, oltre che si è dieci volte più forte di lui, anche con i lanci e tutto, però. Per ora ci serve un giocatore adatto a quel ruolo. Ci vediamo domenica per la live reaction, sempre solo Forza Lecce, Bale e Salerno, merdissima tutta la vita, via! Grazie. Grazie.